19 giugno 1947. Nasce a Bombay lo scrittore Salman Rushdie. Nel 1980 raggiunge il successo con I figli della mezzanotte. Il suo stile di scrittura, che si richiama in parte al realismo magico, amalgama il mito e la fantasia con la vita reale. Nel 1988 Rushdie pubblica Versi satanici, una rivisitazione in chiave onirica dell'episodio dell'ispirazione diabolica di Maometto. Questo libro costa a Rushdie la fatua dell'Ayatollah Khomeini, che decreta la condanna a morte dell'autore. Da allora lo scrittore vive sotto costante protezione.